Questa sera facciamo il donnaio Elio Cipironi, che noi ringraziamo sempre per la sua disponibilità. Giaro è stato presente per noi un altro argomento che aveva scosso sui due anni fa. Questa sera ci viene a parlare degli usi civici negli anni 50. La potea è un argomento che magari chi è più grande, voi che siete più grandi, forse ricordassero. Giaro, inizio, c'è una struttura. Chi non ricordasse, il notario è qui proprio per risvegliare questi ricordi e farci comprendere anche questi usi civici nella nostra cittadina di poteca. E anche, penso oggi, possiamo confrontarvi e vedere le conseguenze oltre di quello che è stato fatto allora. Grazie e lascio subito la pavione. Grazie a voi per l'invito, per dare l'occasione di andare a cercare alcune notizie perché noi lo prepariamo completamente a zero. E già lascio una ricerca appassionata perché questa dei usi civici di poteca è una cosa particolare per le considerazioni e i fatti che ora cerchiamo di richiamare. Intanto, per sommi capi, vediamo che cosa sono gli usi civici in così pura teoria. Intanto, dobbiamo subito dire che l'espressione è molto ampia, non è che sotto la statuzione di usi civici almeno ci sono due istituti giuridici. Quando noi parliamo di istituti giuridici, ci tendiamo a riferire insieme di regole che disciplino una certa materia. Ora, in questa materia di usi civici le possibilità sono almeno due, nel senso che sono due istituti giuridici di origine neulare. Quindi, se non c'è il feudo, usi civici non ce ne sono. Quindi, il primo collegamento degli usi civici è con il feudo. Feudo che poteva far nascere o delle proprietà collettive delle comunità locali o dei diritti collettivi sulle proprietà private del principe, del barone, quello che era. Quando noi parliamo di usi civici, ci riferiamo a due diritti di godimento che spettano ai componenti di una collettività. Per esempio, i cittadini di un comune su terre che possono essere o dello stesso comune, quindi terre pubbliche, o su terre di privati. Questo godimento, che contenuto c'è? Il contenuto di questi diritti di godimento, chiamati usi civici, consiste nel ricavare da queste terre alcune utilità, che storicamente potevano essere o il cosiddetto ius faccelli, cioè il diritto di pascolare i propri animali, abbederalli e roba del genere. Tagliare legna, questo taglio di legna poteva essere o per uso domestico, perché con la legna si facevano materiali per preparare le case, trave, porte, eccetera. Niscemi, per esempio, impiantò la questione degli usi civici con questo tagliare legna, che siccome tutti i cittadini niscemesi nei boschi andavano a raccogliere legna, poi facevano carbone, vendevano questo carbone, anche ai comuni vicini, io lo sento dire dei buteresi che andavano a acquistare il carbone a Niscemi, che era praticamente prodotto nei boschi, nelle suguerette di Niscemi, e dove ognuno dei cittadini delle Niscemi potevano veramente andare a tagliare legna, poi fare il suo carbone e roba del genere. Poi c'era l'uso civico di cacciare gli animali selvatici, il cosiddetto ius de'anti. Raramente ci poteva essere quello anche di seminare, quindi coltivare e ricavare cereali. Questo però come uso civico è molto grave, perché di solito il diritto a seminare nasceva da un contratto con il barone, poi si faceva pagare il temblaggio e quindi cedeva al privato, al contadino, in uso un pezzo di terra e questo lo seminava, una parte toccava il barone, una parte andava a prendere al cittadino. Non tutte le terre però feudali erano gravate da usci civici, perché talvolta o il re o il barone si riservavano il diritto di non vareggiare nessuno in queste terre e allora avevamo a quell'occasione le cosiddette difese o chiusure o bandite. Queste difese, chiusure o bandite sono terre feudali dove c'era il diritto di accedere, e quindi di esercitare usci civici. Dicevamo all'inizio e lo prepariamo che gli usci civici appartengono ad una comunità, ma vengono individualmente esercitati dai componenti di quella qualità, quindi sono usi, godimenti civici, cioè dei cittadini quanto componenti di quella qualità. La dottrina distingue almeno tre casi di usci civici. Abbiamo i cosiddetti usci civici essenziali, cioè quelli che servono a soddisfare le esigenze di vita delle persone che hanno questo diritto, tipo per esempio per l'attingere acqua, di ampeverare il proprio animale, dottare legna per l'uso domestico, di raccogliere erbe sempatiche e roba del genere. Poi ci sono qui gli usci civici utili, quelli cioè che non solo mirano a soddisfare questa esigenza personale degli interessati, ma gli consentono agli interessati di svolgere un minimo di attività inusciosa, artigianale. Noi per esempio qui per restare il tema del Plutera c'era l'uso civico di andare a fare la calce, Alcini l'ha incontrata sia a Pozzillo, c'erano anche le gessai a Giudecca e quindi tutti i cittadini avevano il diritto di andare lì a raccogliere questo gesso e poi fare la calce e roba varia. Questo era un uso civico utile in quanto non è che la calce serviva solo per esigenze personali che ti andava a fare vacanze, ma che si posava e piva, gli eserviva per riprescare le mura dalla casa, altrimenti cacacacina si puliva da casa. Anche si costruiva, per costruire il diritto di scavare pietre nei terreni. Gli usi civici maggiori erano i cosiddetti usici dominicali, quelli in cui praticamente chi godeva dell'uso civico dominicale partecipava ai prodotti del terreno, ma questa è una ipotesi non semplice, non comune. Vedremo che comunque invece il mutera, questo uso dominicale, nacque ad un certo punto, che poi andremo a vedere qua. Hanno natura pubblicistica sui civici e avendo natura pubblicistica praticamente sono imprescrittibili, usucapibili, non scomparronali e quindi praticamente eventuali atti che si facessero di un terreno gravato da uso civico dovrebbero essere in teoria nulla e quindi poi però bisognerebbe andare a vedere in concreto facendo causa che succede, ma da un punto di vista puramente teorico l'uso civico non si perde perché è un bene quasi devaniare e quindi il devano non si estinque, il devano non si estinque, non si estinque mai. Per rimanere sempre nella parte teorica possiamo considerare che gli usi civici si possono spiegare con la cosiddetta nozione frazionale della proprietà, cioè praticamente uno stesso bene viene utilizzato da soggetti diversi per scopi diversi. Così praticamente quando c'è un teudo gravato da uso frutto il teudatario può dal teudo ricavare tutte le utilità possibili e immaginabili dal teudo per molestato e con il limite dell'uso civico che il cittadino esercita sul teudo. Quindi una parte del frutto e del valore del teudatario, una parte invece va ai titolari dell'uso civico. Questo per fermarci alla pura teoria. Abbiamo considerato già all'inizio che gli usi civici trovano lavoro origine storica nel sistema feudale, sistema feudale che venne portato in Sicilia dai normanni, i normanni per la cronaca conquistarono la Sicilia in un trentennio tra il 1061 e il 1090. la conquista si completò quasi a Butera perché l'ultima rocca che resistente ai normanni invasori, c'era all'epoca gli arabi, la per ultima rocca fu Butera, cadde nel 1089, si è prese, non si sa con quale situazione è precisa perché i documenti non ci sono e quelli pochi che ci sono, sono confusi. L'ultima fu noto, fu noto, era stata presa prima, era stata presa prima per il giardimento e c'era stato poi d'accordo, fu prigliata prima, l'ultima che cade fu noto. Con noto nel 1091 si concluse la conquista da parte degli arabi, i quali avevano un concetto di proprietà fontiaria completamente diverso dal concetto di proprietà fontiaria che c'era stato nelle precedenti dominazioni. Noi avevamo avuto prima gli arabi e prima ancora i bizantini. I bizantini li abbiamo nel VI secolo, cioè la conquista dei bizantini inizia dal 535, è quanto un esercito con il generale Belisario scaccia gli ostrodoti e si impadronisce della Sicilia e rimangono in Sicilia i bizantini fino all'827. che cosa trovano in campo agricolo i bizantini? C'era il lapiponto in Sicilia all'epoca, perché questa era una... la Sicilia apparteneva tutta ai romani, da poco senato, da poco le famiglie nobile romane che si erano divisi tutti i capezzamenti del terreno e quindi le colte davano con gli schiavi e roba del genere. I bizantini cercano di limitare un po' questo sistema latifondistico, intanto si appropria o conviscano una parte di questi beni che diventano statali e quindi vengono concessi in vario modo. In Sicilia le cose non è che con i bizantini vadano molto bene, a parte il fatto che siamo una provincia a sé stante, che loro chiamavano Tema, la provincia bizantina si chiamava Tema, era staccata dal resto d'Italia, però tutto questo collegamento diretto con l'imperatore a Pisanzo non è che giocano anche alla Sicilia, tranne le zone costiere, che siccome si riaprirono i rapporti commerciali marittime, le zone costiere parevano in testa, ne trovano giovamento. Le campagne invece si cominciarono a scopolare. Tanto i bizantini l'avventarono, l'avventarono una prima iniziativa per limitare il latifondo. Come questa iniziativa e qual è buono? Intanto cominciarono a dare l'entitevusi, alcune parti di dare l'entitevusi e un contratto in forza del quale veniva ceduto al coltivatore un piccolo appezzamento di terreno con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone. La durata poteva essere di 30 anni o giù di lì. Poi siccome la situazione militare non era tanto tranquilla, che cosa studiarono in bizantina? Una specie di reforma agraria. Siccome loro avevano confiscato parecchie terre, chiamarono dei militari che fecero venire in Sicilia, li fecero diventare stanziali, cioè avevano la presidenza qui in Sicilia e distribuirono alcuni appezzamenti di terreno a questi militari. Quindi iniziarono una specie di reforma agraria. Anche la Chiesa all'epoca ebbe parecchi appezzamenti di terreno che erano stati confiscati a favore dello Stato, poi avevano ceduto imprenditoriale per cui riuscì, tanto a pagare le tasse allo Stato su queste terre, poi riuscì anche a far lavorare diversi operai, diversi contadini. I villaggi erano completamente spopolati, c'erano all'epoca colonne villane, ma erano tutte gente che viveva in campagna in una situazione quasi di sudditanza nei confronti del proprietario. Ai bizantini seguono gli arabi, la conquista degli arabi intanto si realizza in un periodo lunghissimo, 130 anni ci vuole da parte degli arabi per conquistare la Sicilia e la distrussero completamente in fase di conquista. Iniziò la conquista degli arabi nell'827. Butera cade nell'851 in mano agli arabi e si racconta, perché ripeto il documento non è che siano tanto apprendibili, che Butera subì un assedio di circa cinque mesi e poi non venne distrutta perché si accordarono con gli arabi cedendo circa 6.000 dell'anima, non la vivono, io non lo so. Comunque la storia riferisce che cedettero agli arabi circa 6.000 contadini che si trovavano sparsi nel territorio di Butera. questa guerra è molto lunga, è distruttiva, però ha una distruzione a seguito di una eccezionale ripresa economica della Sicilia, perché una volta conquistata la Sicilia gli arabi fecero immigrare in Sicilia tanta popolazione arama, cioè portarono tante persone, perché l'anare ci dice per esempio che all'epoca la Sicilia raggiunse una popolazione di circa 2 milioni di abitanti. Non sappiamo se questo dato sia completamente attentibile, ma comunque in quel periodo la Sicilia è per il maggior numero di villaggi e di casali molto, molto popolari. L'agricoltura riprende, c'è una specie di spezzettamento dell'arifondo, anche se non è uno spezzettamento generale, perché i capi arabi ognuno conserva un grosso, un vasto territorio, quindi i capi arabi, il loro latifondo lo conservano. Nel 1991 ci sono i normandi, qua scacciano gli arabi, o almeno i capi, perché una parte della popolazione alta rimase, anzi si dice che i normandi, il conte Ruggiero fu molto tollerante con questi arabi che rimasero in Sicilia. I normandi che praticamente quando subentrano per impedire lo spopolamento della Sicilia, con danni evidenti all'agricoltura e quindi anche a loro stessi, lasciano nella disponibilità dei vinti, le terre appartenendo ai privati cittadini, quello che poi si chiameranno all'Odi e anche le poche terre che le comunità riunite, non so come si chiamavano, municipio, università eccetera, o anche con Alcinoma, le cosiddette terre comuni. Questi gli normandi li lasciano a chi li aveva e loro però si immaniscono di tutte le altre terre, perché con i normandi c'è un nuovo congetto di proprietà, tutte le terre sono del re, il quale poi a suo piacimento una parte la trattiene per sé ed è il cosiddetto denario, denario che non riguarda soltanto le terre, ma anche certe attività industriali al loro importante, per esempio le saline rimassero al devano dello Stato, i porti erano del devano reale, il quale il re amministrava con un suo funzionario, il portolano, il quale esigeva le tasse, le robe varie, una parte andò a finire alla chiesa, anche alla chiesa ebbe diverse concessioni, l'esempio emblematico di queste concessioni ecclesiastiche è quello di Monreale, Monreale è stato il più vasto territorio feudale di Sicilia ed apparteneva ai monaci, i monaci che poi diventano la parte del ventovescovo, non soffermiamo molto, comunque c'è una specie di concorrenza, cioè praticamente quando i normanni, soprattutto Guglielmo I e Guglielmo II costruirono la Correale e foraggiarono la costruzione della Cattedrale e per diminuire l'importanza del Vescovo di Palermo, quindi la presenza a manco di 10 km di un'arcia, sede, Vescovile serviva a limitare il potere dell'arcivescovo di Palermo per non far rilanzare molto la testa perché l'arcivescovo voleva la sua importanza nel Regno di Sicilia. Quindi praticamente dicevamo che i normanni concedono in fegolo il territorio, la concessione avviene con il cosiddetto atto di investitura, il re con l'investitura, dopo aver ricevuto da un fegolatario il giuramento di fedeltà, perché lì la pazza del fegolo è il giuramento di fedeltà al sovrano, il sovrano al fegolatario trasferisce il godimento di un bene economico chiamato beneficio. Normalmente il bene economico è un territorio, un feudo, però può essere per esempio la gestione di un porto, la nasalina, la foresta, comunque normalmente è un territorio. All'interno di questo territorio il vassallo gode di impunità nei confronti dei funzionari reggi, è una specie di re dentro lo staterego concesso dalla sovrana ed esercita determinati poteri sugli abitanti di quel territorio, quale soprattutto l'amministrazione della giustizia prima soltanto civile e poi anche penale. Quindi il fegolatario non è che solo serve alla gestione, al codimento del terreno, ha anche queste funzioni pubbliche. Quale corrispettivo di questa concessione passarlo deve? Intanto fare delle prestazioni patrimoniali, tipo tributi, deve pagare i tributi, le imposte al re, sia in situazioni ordinarie sia anche in situazioni straordinarie, tipo per esempio il re viene fatto prigioniero, i votari avevano un obbligo di fare colletta e il cosiddetto territorio a favore del re per riscattare il re fatto prigioniero, oppure ci nasceva un figlio e bisogna le spese del re, fa nascere il tuo figlio e dovrà essere sostenuto per il fegolatario. E poi soprattutto c'è il cosiddetto del servizio personale, del servizio militare, cioè praticamente il fegolatario in rapporto con l'importanza economica del feudo, doveva prestare in favore del sovrano il servizio militare, il servizio militare che poi ad un certo punto gli ha finito che ciò pagarlo in penale, anziché provvedere a mandare persone con cavalli, con roba del genere, ci ha pagato inizialmente questo rapporto tra re e feudatario si estingueva con la lotta del feudatario, però poi dovendo una cosa ereditaria, però anche quando si è detto una cosa ereditaria, nel passaggio da un feudatario alle rete, oppure nel passaggio di una successione al ciono, se pagava una specie di concessione, sempre solito si diceva, la cosa era gratuita, quindi il feudatario praticamente era tenuto a questi obblighi, sia di natura pacimoniare che di natura personale, però c'è a tenere conto di una cosa che cerchiamo di inserire nel nostro ragionamento, le terre congesse in tempo erano di solito già abitate da popolazioni che vi esercitavano una qualche attività agricola, popolazioni quindi che utilizzavano parte di queste terre come se fossero terre comune. I normali quando vennero in Sicilia lasciarono questa situazione, pertanto sulle terre conquistate in guerra e congesse dal re in feudo, che cosa le aveva? Intanto la signoria iniziale del re, oltre a questa signoria iniziale del re, che non era una cosa puramente teorica, perché quando il re riteneva che il feudatario era in ferere ci prevocava subito il feudo. Oltre a questa signoria del re c'era da una parte il diritto del feudatario, dall'altra parte anche questi diritti minori che le popolazioni stanziate sul territorio avevano sul feudo. Invece liberi erano i cosiddetti beni allodiati, questi beni allodiati erano i beni modesti, non erano di grossa estensione, qualche tombano di terreno invece c'era un paese, qualcuno esercitava qualche tipo di attività, e poi gli allodi potevano riguardare anche i lotti del giorno, l'abitato dove si costruiva la casa, quindi gli allodi più o meno consistono in questi. Quando arrivare in vigore il regime regolare in Sicilia, per parecchio tempo, si estingue nel 1812, quindi dal 1100 al 1812 vince in Sicilia questo sistema feudale che, ripeto, non riguarda solo la distribuzione delle terre come fattore economico, ma anche come distribuzione delle potestà pubbliche, perché all'interno del feudo, specialmente quelli maggiori, i feudatari avevano potere di vita e di morte sui vassati. I branci corti, che erano una delle famiglie più potenti, questa attività giurisdizionale di amministrazione alla giustizia, tenivano anche una specie di corte d'appello a Palermo, perché nei vari paesi in cui avevano il feudo c'era una specie di giudice di primo grado, e poi c'era una specie di corte d'appello a Palermo, dove si conglobavano tutte queste cause dei feudo di brancione. Nel 1812 arriva la Costituzione nuova nel regime di Sicilia, che abolisce il feudalesimo e abolisce anche gli sicilici. Sta la storia accandola nel 1812 e fu un'operazione voluta dai baroni, i quali praticamente con questa nuova Costituzione ritenevano di liberarsi dal potere del reggio. Contemporaneamente che cosa fecero? Abolirono pure gli usi civici. Abolendo gli usi civici, secondo il criterio dei baroni, le terre che prima erano gravate sia dall'obbligo di prestare quei servizi verso il re e sia dagli usi civici, diventavano proprietà libere di queste parole che ognuno le poteva utilizzare, vendere come voleva. Solo che subito dopo questo 1812, quando il re ripresa i poteri, perché nel 1812, ci siamo nell'epoca napoleonica, praticamente il re delle due Sicilie perse Napoli, se venivano già in Sicilia, allora va bene. Comunque quando il re riprende i poteri, questa cosa non la gradisce molto. Per cui comincia a dettare delle norme come liquidare gli usi civici. Liquidare significa c'è un terreno di 100 ettari gravato dall'uso civico. si dire che praticamente su quel terreno bisogna alcune utilità che vengono prese da coloro che hanno usi civici. Il resto della utilità avrebbe il barone. Si deve quantificare quante è l'utilità. Qual è l'utilità in termini economici che prende il barone, quella che prendono i cittadini. Se per esempio l'utilità è del 100%, all'un barone dei 100 ettari cavi, si devono arrivare 30 perché devono restare dati ai cittadini. Liquidazione significa quotizzare questi terreni e quindi la quota che spetta alla comunità affedarla alla comunità perché poi la ripartisca tra i cittadini. praticamente da questo momento in poi iniziano tutta una serie di guerre tra i vari comuni e gli ex-feudatari. Guerre che durano secoli, tant'è che nel 1924 il governo italiano, stato già unitario, ritiene opportuno di dover ritornare sulla questione e rinforre nuovamente la liquidazione degli usi civici con il reggio decreto 22 maggio 1924 numero 751 che praticamente poi fu trasformato in legge il 16 giugno 27 numero 1767 la quale legge ribadiva l'abolizione di tutti gli usi civici e dei diritti di uso promiscuo e prevedeva un compenso in natura a favore dei comuni. Se i cittadini avevano avuto il 50% delle autorità del peudo, il comune deve avere il 50% di quel peudo. E quindi si iniziava un procedimento che era abinistrativo, cioè davanti al confessario liquidatore degli usi civici. Però contro la decisione del confessario degli usi civici ci potevano ricorrere sia i comuni e sia i feudatari. Per cui di fronte ad un ricorso contro una decisione che si chiamava questa sendenza del confessario liquidatore, poi interterriva la corte di appello che in Sicilia era quella, la corte di appello di Palermo. C'era un procedimento che si svolgeva almeno in tre fasi. La prima fase era quella dell'accertamento dell'assistenza dell'uso civico, non è che il comune chiedeva, doveva dimostrare che c'era stato questo uso civico. Gli usi civici in vita fino al 1800 potevano essere provati con qualsiasi pezzo, cioè anche con prove testimoniali, tant'è che per Butera ci furono convocati un sacco di testimoni davanti a questa condizione per la liquidazione per approvare l'esistenza dell'uso civico. Quelli invece che si erano estiti, usi civici, prima del 1800 potevano essere provati solo con documenti. Se non c'erano documenti, prove testimoniali, dagli usi civici che si erano estiti prima del 1800, non c'era alcuna possibilità. Fatto l'accertamento, cioè se l'uso civico esisteva, allora bisognava passare alla liquidazione. Liquidazione, ripeto, significava stabilire qual è la quota dei terreni che aspettava al colore. Dopo che il comune l'aveva avuto e ceduto con questo procedimento, poi il comune destinava le terre a seconda della situazione. Se si trattava di terreni utilizzabili come il bosco o basco dovevano essere lasciati a tutta la comunità. Se invece si trattava di terreni sfruttabili da un punto di vista agricolo, allora il comune doveva quotizzare e assegnare questi terreni a chi ne aveva diritto. assegnare le banoline di Deusi, che significava che chi prendeva il terreno aveva l'opera di coltivarlo, di migliorarlo e di pagare un certo cano. E per 30 anni non lo poteva cedere, perché se lo cedeva, e a potere c'erano tante case del Revoca, appunto perché il beneficiario dell'assegnazione aveva ceduto prima dei 30 anni, il bene ritornava al colore. Questo è il quadro generale. Ora dobbiamo capire come naccono gli usi civici a terra. Dovremmo fare un certo salto all'impiegio della storia. La storia del Comune del Potere è sempre affascinante, ma ci sono pochi documenti, quindi non è che è tanto facile andarla a ricostruire. Quella che a noi interessa, quindi io la salto tutta quella dal 1100, quando veniva qua, io avevo il Conte Enrico, con la figlia del Conte Ruggero, noi avevamo avuto come primi del latario al Comune, il Conte Enrico, che era sposato con Plantina. Plantina era figlia di Terzo Letto, cioè della terza moglie, perché il Conte Ruggero, devo dire, dicevo lì con le considerazioni, quindi è sempre sposato. Questa Plantina era figlia della terza moglie, e quindi la diede in moglie al Conte Enrico nel Bomberrato, perché non è che noi immaginiamo le conquiste delle carri d'allora, che sono ancora critiche quelle che è nostra. Allora, praticamente, le normande dovettono richiedere l'aiuto a tanti arci veudatari della zona, e tra questi veudatari della zona scendirono pure gli aleramici, erano chiamati così aleramici, questi lanchesi del Bomberrato, perché praticamente il capostipite era aleramico. e assieme a lui ne vengono arci chiamati con il nome di Lombardo o Lombardo, però non è che venivano da Lombardia, c'è una zona del meridione d'Italia che all'epoca, siccome era stata lasciata dai ducchi Benevento e Lombardia, si chiamavano Lombardi. A queste si aggiunzano però alcune popolazioni del Chiemonte, soprattutto della Liguria, e perché questa popolazione, dalle doppie volte c'erano questi conti barchesi del Bomberrato. Guarda, siccome avevano molto contribuito alla conquistata, dovevano avere molto, perché non è che si poteva cominciare un conte con qualche cosa. E, difatti, imperdolò una contea immensa, che nasceva da Piazza Armerina e finiva qua, nel meridione della Sicilia, più Paternò. Oggi a dare la contea di Butera, gli alemanici ebbero la contea di Paternò, che era un signore di Butera e di Paternò, ma erano parenti del re, quindi era la cosa, era tutta, comunque non possiamo addentrarci in questa cosa, noi dobbiamo grossomodo arrivare al 1392, cioè quando Butera viene da Infeudo a un certo signore che si chiamava Santa Paolo, Ponzo era un figlio, questo non era un figlio, cioè praticamente che cosa era succedendo. a quell'epoca la Sicilia aveva avuto una lunga e stenoante guerra che si era aperta con il Vestro di Paternò, cioè praticamente si era aperta come ribellione nei confronti dei francesi. Questa guerra praticamente dura dal 1282 al 1372, 90 anni di guerra, tra Angioini e Aragonesi. Gli Aragonesi erano quelli che erano in Sicilia, che si erano impossessati perché si richiamavano a dare da vari collegamenti con la famiglia degli Altadilla dei Normani, e gli Angioini che siccome il Papa ad un certo momento non gradì che la Sicilia passasse in mano ai Normani che non lo rispettavano come signore feudale, cercò di appoggiare i francesi, la casa d'Angioini, e quindi ad un certo momento vengono gli Angioini. Gli Angioini a Palermo vengono scacciati con questa ribellione d'Antesco, che è una guerra che dura un sacco di tempo, 90 anni, e si chiude con la cosiddetta pace di Avignone. Nel 1372 il re di Sicilia, all'epoca, è Federico IV, il 6 decennio. Durante questa guerra Sicilia successe di tutto. C'è una peste nera nel 1347 che riapparve nel 1355. Le popolazioni furono decimate. Butera, che nel 1282, secondo il censimento che si trova nelle collette Angioine, aveva una popolazione di 8.846 abitanti, nel 1377, quando muore Federico IV, il semplice, ha una popolazione di solo 850 abitanti, cioè praticamente ha avuto un decremento demografico di circa il 90%. Di chi era il feudo quando succedono queste cose a Butera? Era il feudo degli Alagona Conti di Distretta. Butera era il feudo degli Alagona. Questi erano grossi personaggi dell'epoca, perché quando Filippo, questo Federico IV, il semplice, muore nel 1377, c'è la sua una figlia Vimena e quindi non sa che cosa dare. Allora alza l'ingegno e la vida, questa figlia Vimena, è una specie di consiglio di leggenza di quattro personaggi in luce dell'epoca, di quattro vicari, i quali anziché servire di consiglio di leggenza alla figlia, alla reggina Maria, se spartiscono la figlia in quattro ventre e ognuno è re al riservo di questa situazione. Il Alagona qua, già l'alcio, era stato fin altro nominato tutore della figlia Maria da parte del testamento di Federico IV. Se non c'è che cosa succede? Che c'è stato un altro grosso personaggio dell'epoca, il Railondo Moncara di Catanissetta, il quale Moncara non entrò in questa rosa dei quattro vicari. E allora che cosa vince? Raffì la principessa, la reggina Maria, che era rinchiusa dentro il castello ursino di Catania e la porta in Spagna. E in Spagna praticamente combinano un matrimonio con Martino, che era il martino subito, della Sicilia, assieme alla reggina Maria. Cioè questo avviene nel 1392. I vicari, specialmente il Chiaramonte, Andrea Chiaramonte, e la Lagona, a cosa non c'è qua già. Il Chiaramonte, nel 1392, già a Palermo davanti al Palazzo Suolo, stè, venne decapitato subito. Perché Martino I vengono in Sicilia con idee molto chiare. Con gli Alagona all'inizio c'è buona trattativa, ma siccome gli Alagona non sostendero il re nei confronti del barone Chiaramonte, e ci è confescavo tutto il tempo, compreso Butera. Ora, quando lui, Martino I, era venuto dalla Spagna, si era portato a seguito alcuni romperi spagnoli, tra i quali romperi spagnoli c'è anche il Santa Paola, che a un'ora era ugone di Santa Paola. Santa Paola è la traduzione, noi poi l'abbiamo tradotto in Santa Pace, Santa Paola è il teudo che loro avevano in Spagna, erano duchi di questo teudo, tant'è che l'ugone, quanto vuole, divide bene. Il primo genito, quando torna in Spagna, Paolo Giuglio, resta qua a Butera. Ora, nell'ottobre del 1392, Re Martino e la Regina Maria concedono in feo al nobile catalano ugone di Santa Paola la baronia di Butera e della torre di Valconale. Dall'ora Valconale viene unita alla baronia di Butera, baronia che poi per successione viene confermata in favore del figlio di Ugone, che si chiamava Calceranto di Santa Paola, però al Calceranto nel 1399 viene dato in velo tutto il territorio di Butera. Falconale era il castello nuovamente il re della riserva, perché siccome era un castello molto strategico, ogni tanto si è ricordato il re dice ma che tu hai dato in velo e quindi c'era un castellano che amministrava il castello per re. Quando il 18 ottobre del 1392 Re Martino e la Regina Maria concedono potere a intero al barone ugore di Santa Paola, al nuovo eurodario viene attribuita non solo la giurisdizione civile e penale sugli abitanti della città e del suo territorio, ma gli vengono trasferiti senza alcuna eccezione o riserva tutti i diritti e le potestà che oce alla lenta giurisdizione spettavano ai concedenti sulla città, sul territorio e sui beni e sugli abitanti e come l'avevano se si diceva un resto e bene, perché l'avevano confiscato agli Alacona. Quindi con la confisca degli Alacona gli stessi beni erano tornati al demario. Dal demario vengono staccati e dati in velo al Santa Paola. Contestualmente, quindi il demario e il reggio veniva da Martino costituito in feudo e concesso in perpetuo all'Ugo di Santa Paola. Tale concessione veniva confermata ed ulteriormente esplicitata in favore del figlio successore di Ugo, cioè in favore di caccelando Santa Paola con decreto del 15 maggio 1999, l'abbiamo citato poco, 15 maggio 1399, nel quale il decreto volge a ripetere tutte quelle espressioni che non lasciano dubbio sull'intenzione del re di attribuire a Santa Paola il demario reggio, si precisa che i sovrani donavano e congedevano a Santa Paola i beni tanto feudali, cioè i feudi, quanto urgenzatici, cioè gli allodi o proprietà privati esistenti nelle terre e nel territorio di Butera che fossero appartenute, dice un decreto, a chiunque dei traditori e dei rinventi. Quindi, cioè praticamente, quanto nel 1392 c'è Gialagona si rinventano a Orlega, quanto pare sono seguiti Gialagona a tutta la popolazione di Butera e quindi praticamente Orlega che conviscò tutto, conviscò tutto e tutto questo che conviscò quello passato a Santa Paola. In latino io non ho il testo però non l'ho preso direttamente dal decreto siccome come vedremo ora la storia raffinisce il tribunale a Cartanesetta nella parte emotiva della sentenza del cipurale sono riferite parte del decreto e lo giudice e il donatore tra l'altro ricorda questa operazione dove si dice che il re donava a Santa Paola Bona Tam Feudaria Sivevella Quam Burgenzati Existenzia Indictis Terra Putere Ac Territorio Che Vuerum Que Vuerum Quorum Quorum Cucque Ribellum Et Proditorum E lo giudice poi Gialagona e Sagnota pare che così non siano stati pochi costori seppure non può rivela come si sostiene l'intera città quindi questa è una considerazione all'interno del decreto fatto dal Presidente parola diversa la linea comunque io ho cercato di sintetizzare non vi è quindi dubbio alcuno che con una subbatta investitura feudale sia stata concessa e ciasferita dal re al Santa Paolo la universale feudalità del territorio di Brutera ne consegue che tutte le singole parti del territorio stesso devono ritenersi comprese nel territorio fatte salve soltanto le preesistenti proprietà dei privati non traditori e delle università le cosiddette terre comune attorno al paese nonostante questi pieni poteri però i Santa Paolo a Brutera non vengono e questa è la mia tradizione dei nostri feudalità a Brutera nessuno mai dei nostri feudalità ha in Italia perché non vengono perché loro avevano grossi interessi economici intanto nel Catanese dove avevano in feudo i codi e uvea che era stato il primo feudo poi avevano avuto anche benzina però il benzina poi fu passato alle vani che lo compensarono in occidente avevano il viviere di lentini dove c'era arrivamento di pesce e allora si faceva attività intica il viviere di lentini e il feudo Pialà da dove poi nacque Gran Michele Gran Michele e quando nel 1693 viene distrutto dal terremoto il principe di Butera provvede a far ricostruire il paese però lo sposta di due chilometri allora era Carlo Carata Brangiport ma era signore della zona come Brangiport non come Carata perché erano veri ereditati dalla madre non erano due Brangiport e in questi non era Carata e fa ricostruire il paese a due chilometri di distanza con il nome di Gran Michele Magnus Michele e fu ricostruito dai Brangiport tant'è che se qualcuno fa a Gran Michele intanto il paese è costruito praticamente a forma ottagonale perché il principe si intendeva di tutto matematica fisica filosofia religione eccetera e c'è vicefina pianta che comandava a costruire il paese tutto converge in una piazza giangiale qua è stato il tuo principe del Brangiport e il ricorso principale del palese si chiama ancora Corso Brugera a Gran Michele perché fu un ricorso per la guerra ma torniamo al nostro lato quindi Santa Paola non vengono a Brugera hanno interessi economici e catalesi e politici a Palermo perché loro fanno carriera in scuola e l'epoca dei catalani loro si inseriscono nell'amministrazione del regno e a Messina spesso e volentieri sono straticoti cioè siccome Messina è un comune che ha demaniato che appartiene direttamente al re il funzionario che governava il comune a 9 da 3 si chiamava straticoto e i Santa Paola e anche il regno morto in seguito spesso e volentieri hanno l'amministrazione di Messina quindi loro interesse a venire a Brugera non è a venire la situazione di Brugera in quell'epoca era quella che era abbiamo visto che gli abitanti si erano redotti e allora che cosa succede succede che nel 1477 l'eree dei Santa Paola che si chiama Raimondo Santa Paola sebbene una strategia per come cercare di sfruttare questo territorio strategia che lui dice lui avrà fatto questo ragionamento il territorio è immenso però vi laudere tanto come dire a Zampano sul territorio e allora dice chiede cosa stranissima perché andava contro le leggi e la prassi corretta chiede al re di spezzettare in feudi il territorio e spezzettare in feudo perché frazionandolo aveva più possibilità di vendere le parti frazionate di questo territorio la concessione legge porta la data del 4 novembre 1477 il re allora era avertura due re Giovanni e per ordinando il cattolico padre e figlio insieme regnante che quando il re cominciava ad essere vecchio per evitare che ci fossero poi problemi nella successione al cion si associava al cion già il figlio in partenza quindi in questo momento nel 1477 nominalmente sono due re che vengono insieme padre e figlio e quindi con questo decreto autorizzano il Santa Paola a dividere il territorio di potere interi a vendere liberamente fatti salvi i diritti della reggia curia e gli ombri a carico dei uomini della data che non è che qui ci deve veniva i tributi e tutte le cose che aspettavano al re che venivano annullati fatte salve queste cose loro potevano spezzettare la giurisdizione comunque il civile e penale restava sempre lo Santa Paola che veniva spezzettata dai singoli pelli però lo re ci combina lo Santa Paola con un bel trabocchetto e qui a questo trabocchetto si innesta tutta la questione degli usi civici maggiori dell'arico luterese il decreto dei sovrani ad evitare che dalla divisione del territorio in feuri conseguisse danno alla popolazione stabilisce che gli abitanti di Butera presenti e futuri abbiano il diritto nei detti nuovi feuri che si ricaveranno dalla divisione di seminare fare masserie edificare senza essere tenuti verso il barone ad alcun pagamento e neppure ai nuovi tributi di terraggio che nel frattempo erano state repristenate in Sicilia quindi della panna il re concede ai San Dapau il diritto di dividere il territorio in feuri da un'altra parte impone concede questi usi civici dominicani cioè quelli più grossi perché consentivano una partecipazione ai prodotti della terra il fatto di poter seminare res frumentali cioè orzo frumenti e roba del genere poter fare masterie cioè allestire case campagne per poter provvedere a tutte le attività agricole di poter edificare nel territorio del valore e praticamente significava con partecipare quasi alla proprietà al godimento del freddo quindi i puterenzi quasi a bilanciare la concessione fatta dal barone ottengono dal pre i diritti dominicani di seminare fare masterie edificare senza oppure qualcuno verso il barone nel decreto si dice che queste cose questi diritti li possono esercitare sine adicua soluzione soluzione si chiede che la giuridico pagamento quindi senza pagamento e se il nuovo iuris ex azione e neppure e cioè anche senza il pagamento dei nuovi diritti quindi questi poteresi sono esentati dai cosiddetti terraggi in base a questo decreto questi terraggi erano stati introdotti da Federico II aboliti dal re Giacomo e introdotti dal re Alfonso nel 1452 ma quando un re concede queste cose ai puteresi questi diritti li ricongeli esentasse completamente evidentemente il barone ci cadete in un minuto di fronte a questa situazione e allora che cosa che cosa escogita il barone confoca subito i cittadini in assemblea e questo avviene il 24 maggio del 1478 riunione all'epoca venne fatta nella chiesa madre e venne convocata all'assemblea civica con i giurati il barone a modo suo espole quali sono gli effetti del decreto reale del 1477 e gli propone e propone ai cittadini una specie di transazione di permuta e cioè praticamente la permuta che il barone propone io mi cedo una parte del territorio libero a voi come italiani voi mi cedete per tutto il resto del territorio libero dagli usi civici quindi fanno questa transazione e i cittadini che cosa fanno forse impauriti forse non rendendo se conto di quello che stavano a combinare anche se poi è una cosa molto molto d'allosa non è che era molto d'allosa comunque con questa transazione i cittadini di Butera hanno una militare l'atto da notare dice temine discrepante quindi se nessuno espresse il senso c'è non il barone i diritti dominicali ad essere riconosciuti dal re sul territorio comunale cioè diritti di seminare farmasserie di freccare senza un pagamento del raggio e consentono la divisione incredibile del territorio dall'altra parte i Santa Paola quasi congelano gratuitamente comunque congelano perché i cittadini l'hanno recuperati da questi diritti i Santa Paola congelano l'intervario comunale all'università e quindi ai cittadini di Butera una porzione del territorio comunale corrispondente a circa un terzo dell'intero territorio i cui confini vengono fissati e descritti nello stesso atto di transazione vi sono comprese in queste terre le terre di San Nicola e tutte le terre attorno all'abitato ma che non sono poche cioè il territorio di Butera in salve legali era di circa 16.000 salve le salve legali erano un ettaro 742 mentre la salve quella di Borgiforti era tre ettare e bispere chi ne allegava in Sicilia era comunque un terzo del territorio quindi Gardieria Pozzillo Mamma Gioia La Spida eccetera che se vanno finissimo tutte cioè se noi guardassimo il nostro territorio con le spalle verso Mazzarino la zona di sinistra viene data al demano la zona di Vespa è quello a mare diciamo quindi resta ai peggio e quindi c'è questa transazione l'assegnazione dice il provvedimento dice il provvedimento viene fatta pro demano et utilitate todius universitatis su orum vassanorum et pro eorum animalicus quindi è in piena proprietà anche se qualcuno ritiene che il demano rimaneva come se fosse un bene che lo vale glielo dà in demano demano è proprietà pubblica quindi sul demano loro diritti più non avevano la proprietà era dell'università quando parliamo dell'università è come se parlassero di comune di fatto nel nostro sistema ancora c'è universitas infectis e civetà del putere che si arretiene a questo concetto di università i Santa Paola siccome erano in quel momento erano larghi concedono riconoscono anche ai vassalli cioè cittadino del putere pro soliti erano da bantico come era avvenuto anche prima il diritto di cacciare fare legna legame poi era l'isa praticamente legame era un tempo a potere seguitivo a lisa per fare le corde e era un eservato che aveva luce e l'ordomare e questi erano i cosiddetti diritti di usi civici minori quindi con questa transazione del 1478 una parte del territorio diventa denaro proprietà pubblica dell'università di putere e quindi dei suoi cittadini l'altra parte resta resta al barone la transazione però non è che subito valida la transazione deve essere approvata dal re non si sa o meglio si sa come è la cosa anziché durare per le lunghe tutte le altre transazioni successive mai non la trovare questa transazione che era stata avarta nel abbiamo detto a maggio del 178 l'11 settembre viene approvata dal re o meglio viene approvata dal comprovvedimento del vice re fornito di potere quindi al re del re perché un re a un certo punto dice io da Spagna non lo muovo in più governo la Sicilia con un mio vice re questo veniva nominato prima tre anni poi per sei e lo stesso dice nel momento dell'insegamento nominava subito una specie di vicario che era il presidente del regno perché nel caso in cui gli capitasse qualcosa di impeditivo nel governo della Sicilia c'era il presidente e la Santa Paola scuola diverse volte presidente del regno quindi viene approvato dal vice tre che all'epoca era il conte di Cardona e l'approvazione è in data 11 settembre 1478 e quindi la transazione diventa valida e definitiva perché tutta questa premura dell'approvazione il vice re Cardona era zio materno da Santa Paola quindi praticamente ci si stava subito ci si stava subito non è che le cose succedono così sono anche allora il conte Cardona il vice re era fratello della madre infatti Santa Paola in un'epoca i nobili avevano il doppio cognome prima quello del padre poi quello della madre il Santa Paola dei nostri giorni si chiama Santa Paola Cardona perché la madre è Cardona quindi secondo cognome non contento di questa situazione nel 1508 quindi siamo manco a 30 anni di distanza che cosa strumenta il barone Santa Paola che non è stiamo arrivando al pozzo non è quello della transazione del 24 178 propone un'altra transazione questa è la cosa che non vede mai con la madre con questa transazione praticamente cosa andrà dice ai cittadini voi siete mezzanasciati non potete pagare le tante che sarebbero i tributi verso le le perché praticamente avveniva che Stetante rifrescudiva il feudatario il quale paiava alla reggiatura cioè voi non siete in condizione di pagare queste imposte queste donativi come si chiamavano allora non siete in grado di provvedere alla guardiania della torre di Balconara perché tra gli alciopoli difeudati il Buterese doveva provvedere alla guardiania della torre di Balconara che siccome era un presidio militare nei confronti dei turchi perché ogni tanto si barcava qualcuno quindi bisognava stare a l'unità però la università doveva provvedere anche alla guardiania di Balconara provvedo tutto io però voi mi restituite il feuro bozziclo e di fatto tutto lo feuro con un atto del lotaio Paschetti del 28 febbraio del 1508 viene restituito viene donato viene donato al Santa Paola il comune riprente detervis comunibus et denoniaribus quindi il feuro cozzico e pagino che fa parte del demano del paese in compenso il barone si obbliga praticamente a pagare queste imposte si possessa subito del feuro nonostante che la prezzazione non venga approvata stavolta il popolo fu convocato nella chiesa di San Giovanni non fu in patrice a Santo Paso non so perché non so perché fu convocato un popolo assotto di campana dal barone fu convocato un parone si impegnò a pagare queste cose però non si sa che cosa si è avvenuto in seguito perché nel 1583 con un di lei con quel accendimento che si faceva allora il comune non solo dice si contava 20 ma dice che è operato del debito quindi può essere che il barone nonostante si sia preso il feuro del pozzino non abbia pagato niente quindi in 30 anni che cosa succede che San Daballo riescono a riscattare gran parte delle loro terre da questi diritti civici che erano stati concessi dal re nel 1377 i due terzi del territorio perché un terzo può passare un buono quindi dicevamo 4 novembre del 1777 Aimondo Santa Paola ottiene dal re che divide il territorio intero per il re congene ai cittadini il diritto di seminare edificare eccetera senza dover pagare niente perché il punto essenziale è la questione che non c'è un pagamento da dare in confronto del barone poi con un angolo del transazionato che ho detto il 4 maggio del 1778 una parte da dire dal barone è concesso in demà tracciaparte diventa libero successivamente nel 1508 se vanno c'è il Pozzillo e il San San dobbiamo pure ricordare che con Raimondo Santa Paola e la stessa concessione del 4 novembre del 1477 riceve una licenza popolanti cioè un'autorizzazione a costruire un paese evidentemente non si tratta di una licenza popolanti di ingrandire il paese molto probabilmente ci sarebbe stata qualche immigrazione da qualcuno oppure un barone pensava che con questa divisione del territorio interno ci sarebbe stata una ripresa economica comunque viene autorizzato a ampliare il il perché non è che il barone di sua iniziativa costruiscono il paese doveva essere autorizzato a pagare per la concessione avuta per la licenza popolare e roba per scelta per sforzare le cose di Santa Paola rimangono signori del potere fino all'8 decente 1590 data di morte di Francesco Santa Paola Branciporti o che il fratello di Ambrogio quando Ambrogio il 21 agosto 1563 aveva ricevuto dal re il titolo di principe di potere Filippo II di Spagna nomina il Ambrogio Santa Paola principe di potere per tutta una serie di benevolenze compreso il fatto che Santa Paola aveva sconvitto il pirata Barbarossa che da noi si chiamava pirata e da noi era generale dei ultimi per gli altri che chiamavano il pirata aveva sconvitto il pirata Barbarossa era stato diverse volte presidente del regno Santa Paola e quindi gli conferiva il titolo di principe di potere ad Ambrogio il fratello Francesco suveggio perché Ambrogio non avevi tutte e due Ambrogio e Francesco erano figli di Ponzio Santa Paola che aveva sposato prima Eleonora Brangiporte figlia del conte di Mazzarino e in seconda nozze la cognata Isabella Brangiporte che era regola di Giovanni Battista Barrese barone di Vitello quindi con quest'operazione ai Brangiporte vanno a finire non solo i Deoli di Santa Paola ce la afferisce e Eleonora ce la afferisce poi subito dopo dopo alcuni ventenni o centenni anche perciaprezia perché anche lì i barresi si estingono e poi i barresi sono invalentati con Santa Paola e Roma e i Brangiporte diventano proprietari di Sicilia Sicilia momentaneamente cioè nel 590 quando muore Francesco gli subvengia dal principale la nipote che è figlia della sorella c'era Dorotea Barrese Santa Paola chi sta nel 41 su l'anno muore e successe il figlio Fabrizio Brangiporte con insomma si inizia la dinastia dei Brangiporte principe del putera un titolo di sommo prestigio questo di principe del putera per quale motivo perché siccome era stato il primo titolo di principe che il re di spagna ha conferito in Sicilia gli spettano tutta una serie di diritti di precedenza a roba varia compresa la presidenza del Parlamento siciliano il Trangiporte per circa tre secoli presidente del Parlamento siciliano e quando noi diciamo ricordiamo il vecchio detto putera che la luce dell'urregno è dovuta al fatto che quanto al Parlamento siciliano si chiamava l'appello dei deputati si faceva la chiama per la votazione il primo ad essere chiamato era principe di putera quindi putera prima luce del romeo e questo titolo immaginate che nel 20 avril 1603 il principe Fabrizio combina un pagiononio al figlio Francesco Trangiporte con la principessa donna Giovanna D'Ambra che era la figlia dell'eroe di Depanto colui che nel 1571 aveva sconvinto le truppe turche e ha salvato la cristianità la figlia sposa il Trangiporte non dicevano quanto ci pensavano di notte perché sarebbe troppo lunga comunque e poi con tutte le sciarie che arrivano il principe padre con il principe figlio perché il principe figlio riteneva che il padre fosse spardoni e quindi gli fecero fare al principe di putera Fabrizio una specie di donazione degli stati gli stati sono i territori abitati al figlio Francesco Santa Paola il quale era sempre vendata di guerra giuridica giudiziaria con il padre tant'è che quando sposa la principessa Lauscia a Palermo non ci possono dire perché il palazzo potera occupato con il principe padre Budera con genente e si trasferiscono a il templo di Catania e lì c'è una regge in mezza di Brangiforte che fu vitalizzata costruita in tempo dalla principessa d'Auscia e in quell'epoca tra l'altro sul mandaro che la famiglia non si chiamava Brangiforte d'Auscia ma d'Auscia Brangiforte con un prescritto reale anziché avere il cognome per parola la famiglia aveva prima quella della madre perché evidentemente la principessa era prima cucina del re all'epoca era il ripoterzo di Spagna ed era primo cugino anche se cugirasco perché praticamente Don Giovanni Rauscia era figlio illegittimo dell'emperatore Carlo V comunque era prima cucina del re quando arrivai a Palermo le cronache raccontano che cosa successe il patrimonio del secolo la principessa attesa alla porto sparare tutte le carbonate tutte le castelle al mare del Palermo poi fece l'ingresso di una donazione reale comunque con tutti questi nomi feudatari che abbiamo avuto non so come tutte le se passassero perché se il parola Santa Paola che ancora non era il pezzo grosso ce la riesciva a frecarsi con quella donazione leggenda il teuro di San Nicola quale augure di c'è pregare quante mani nel prosievo non se sarà come nel 1812 praticamente nel 1812 cessa cessa il feudalesimo e momentaneamente fu una vittoria del barone quale secondo loro si erano liberati del potere del reggio e quindi il re rimaneva sulla carta i feuri erano liberi dagli sicilici oppure i feudali non c'erano più e loro potevano fare quello che più ripenevano dei loro teori verso il 1820 comincia dicevamo poco fa la guerra e tutti i comuni le comprono e vediamo che cosa succede nel nostro comune e quindi tra il comune e gli eredi aventi causa e quando parlo di aventi causa mi riferisco a coloro che avevano acquistato questi feudali dagli originari febronatari inizia una lunga controversia sia per ottenere la restituzione del denaro comunale sia per avere lo scioglimento e la liquidazione dei diritti promiscuoli controversia che dura più o meno fino a 1960 durante questa controversia però il comune è sempre determinante non è che tiene una linea processuale costante perché ci sono momenti in cui vuole la restituzione del denaro ci sono altri momenti nei quali chiede che tutto il territorio feudale venga riconosciuto gravato dei diritti di usi civici e quindi ritiene di dover avere il compenso in base a questi usi civici però così facendo lo comune si scorda la transazione in data 20 giugno 1823 il comune chiede al consiglio di intendenza che sarebbe la prefettura nel tempo dei portoni la prefettura si chiamava intendenza fino a neanche quando parliamo di intendenza ci riveliamo a quello che oggi è la prefettura e come la prefettura era stata garicata di questa operazione di ripetazione chiede la dichiarazione di nullità della transazione del 1478 e la restituzione dei diritti che sull'intero territorio comunale erano state riconosciute ai cittadini con il decreto del 4 novembre del 1477 la prima richiesta del comune quindi la transazione dice il comune è nulla perché praticamente i puteresi non si restano conto di quello che stavano facendo e ci sarà stata sicuramente una situazione di subordinazione memorale è una data quindi il comune in prima volta chiede che venga dichiarata nulla questa transazione e quindi si riconoscono i diritti dominicali su tutto il territorio comunale poi cancia richiesta e in data il 17 luglio 1898 cita la principessa di putere che doveva essere Caterina Brangeforte che fu forse avuta ma comunque Stefania Brangeforte Stefania Brangeforte avanti alla commissione dallo scioglimento dei diritti provvischi chiedendo il riconoscimento del denaro comunale circoscritto entro i limiti fissati nella transazione del 1478 richiesta che viene ripetuta nel 1834 e nel 1841 da fronte a questa richiesta nel 1843 l'intendente cioè il prevede dispone di verificare qual è il territorio del denaro vanno a sapere qual è il territorio anche perché nell'atto del 1878 la transazione questa parte è scritta in forma dialettale quindi non è molto chiara qual è la perivitazione di questo territorio concesso in denaro e affida del tutto questa verifica ad una commissione che è composta dal consigliere delegato dell'intendenza di finanza che è il conto in urgenzo rosso di San Secondo forse parete da signora San Peripo perché signora San Peripo c'è il rosso di San Secondo quindi poterse che parete da signora San Peripo poi c'era o c'era il presidente San Peripo e da la cura sì e la signora del padre era San Peripo rosso di San Secondo quindi poterse che parete di questo conto poi c'era la commissione era composta da un ferito che era nominato dal comune di Putera che si chiamava Francesco di Cicchia ed era coagulato da un passato Diego Bassano che forse ci aiutava per fare questa verifica e poi c'era il ferito che era nominato da gli eredi Putera e la panza c'è via questo era Fresano si chiamava Luigi Faraci un ferito che era stato nominato per conto della famiglia del Prince la perizia viene redatta nel settembre del 1843 quindi si spiega lo subito e consente di verificare i toponimi cioè i nomi dei luoghi di 17 capisaldi punti di riferimento di questo denaro così come erano stati indicati nella convenzione del 1478 identifica molti punti di questi molti di questi punti del riferimento e stabilisce i criteri per individuare quelli che sono meno sicuri la perizia è separata da una chiara che mi hanno nominato una specie di reggio agrimensore che si chiamava pieggio che via che fa la pianta di questo territorio c'è il coscritto che poi in mezzo all'ambrogno si perse sta pianta che poi è quasi la copia dell'antibio del Ciporto un comune la perse sta pianta del pietro di via pensate che questo territorio aveva un perimetro quello che toccava tutela di circa 20 miglia cioè 30 km di perimetrazione e all'interno ci dovevano essere almeno 6.000 salme di perveno 6.000 salme moltiplicato per 1,74 su praticamente circa 10.000 etter di terreno dovevano essere questi considerate che il territorio nostro è tutto 28.500 etter e qua siamo a un buon terzo di questo territorio i perimetri che fanno la perimetrazione però non si limitano a fare questa perimetrazione provvedono anche a fare una misurazione delle terre esistenti all'interno del perimetro però dividono queste terre in terre demaniavi che sono in possesso dell'originario teodotario avendo in casa e nelle terre abbodiamo perché praticamente che cosa era successo? che una buona parte di queste terre tolte male è riuscita sul patio dei cittadini del puterese quindi non è che erano rimasti sole al barone cioè praticamente quando fanno questa misurazione le terre in possesso del barone ammontano a 2243 salme che corrispondono a 3917 ettari mentre le terre allodiali che la perizia chiama così allodiali perché se c'è un usurpo non potevano essere allodiali per andare bene lo comune erano di circa 3817 salme che corrispondevano a mettere 6666 comunque fatta sta verità lo processo si bloccava non si sa per quale saggiore si blocca solo che lo principe gli eredi si cominciano a spaventare già cosa che non è cosa che si esisteva facilmente per cui il 10 luglio del 1864 dall'albio al notaio Rocco Strazzeri fanno una transazione comune e principe per quanto riguarda i branciporti alla transazione interviene il principe Ercole Lanza anche a nome di tutti gli eredi dell'Alanato Stefano di Branciporti per il comune c'è tutta la spilza dei signori che intervengono in questa transazione c'è intanto il sindaco che il dottore Domenico Barcoli Cannata poi ci sono due assessori Rindone e Bronco Budano e poi ci sono una serie di consiglieri comunali che intervengono Don Francesco Vallesi del Furno da Paolo il vicario saggerdote Don Caetano Cusaldetta il dottore Francesco Di Cicchia il dottore Federico di Federico medico fisico c'è il visore dell'atto Don Otaro Schanzer poi c'è il dottore Saverio Costanzo medico fisico la saggerdota Don Vivico Giunta la saggerdota Don Alfonso Scuzzarella Don Giovanni Passarite perché tutti avevano tempo da donne Don Rocco Danile che sarebbe un paggio Don Otaro Don Rocco Averna chirurgo Don Giovanni Di Giorgio Maestro Rocco Vinci tutti dove ce li ha il dottore il primo sindaco il secondo il terzo e il quarto assessore tutti gli accettano consiglieri comunali quindi tutta l'amministrazione che si accosta che cosa fanno a questa transazione praticamente da una parte i branci morti a un cielo per le 10 e da fatto gli eviti vuole fare parata a quarta grade prima non avevamo parata l'OSG ma questa è una cosa quindi stavamo dicendo il 10 luglio 1864 fanno questa transazione quali sono i termini i branci morti cedono al comune la metà del feo San Nicola per 466 entra pari a 281 salve legale la torre del castello cioè quello che rimaneva del castello nel 1864 i branci morti la cedono al comune con le case circostanti il castello queste vengono pure cedute poi cedono pure 22 aree di terra l'ha incontrata iudeca dove c'era un'eggessaie queste vengono cedute con la transazione del notario stransero il comune da parte sua rinunzia a richiedere tutto il resto del demanio comunale del 400 fessato per la transazione di Santa Paola nonché tutti gli usi civici maggiori sul restare le parti del territorio se ne servono soltanto gli usi civici del comune e per le minore di raccogliere il papaluccio e il disa nel suo terreno la transazione non viene approvata però il comune viene subito immesso nel possesso di questi beni che quotizza da in Enviteus e fino alla casa di Vattore al Castello nel 1904 il comune torna alla carica stavolta davanti al circunale davanti al circunale dove cita non solo il principe di potere eredi ma anche tutti i nobili che si erano appropriati di questo territorio di questo territorio comunale e davanti vengono citati Morcia e Laz i Chiaramonte e Bordonaro che nel frattempo si erano imparoliti hanno acquistato il barone Gabriele Chiaramonte e Bordonaro senatore Carregno e cavaler Giovanni Chiaramonte e Bordonaro poi c'è la contessa Maria Bilding di Redalì perché il proprietario di Falconara che il Bilding era il marito di seconda nozza di Caterina prege corte c'era un tempo avevano c'erano stati altri passaggi Maria di Giuseppe Lanza dei conti di Mazzarino di Rilla e Rompavaglia Isaeli il direttore della Banca della Italia che si è anche parlato da un po' del comune la Banca della Rompavaglia poi c'era di Camerata c'era una parte dei Barcoli per quanto riguarda San Giuliano e Roma vengono citate tutte con questa con questa sentenza che cosa vuole del comune con questa citazione praticamente chiede la dichiarazione di denanità dell'intero territorio comunale cosa assurda cioè non si è contentata che si dira che aveva voluto morire tutta cosa tutto il territorio però in subordine ove la tribunale dovesse essere ritenuta valida la transazione del 1478 il comune chiede che vengano dichiarato il denanio comunale questo territorio questo circostritto e gli venga restituito questo territorio la causa della sentenza ci sbrigiamo perché facciamo i pericoli che siamo andati nel 1908 la sentenza del 26 maggio viene depositata il 29 di maggio il tribunale è composto da un certo De Luca Francesco del presidente Poglisi Francesco e Gentile Carmela Carmelo che sono i giudici relatori Poglisi è quello delle zone della sentenza che cosa decide tra altre cose dichiara nulla la transazione del 1864 perché era priva di approvazione della legge rigenta la domanda del comune che voleva devaniamo l'intero territorio nonché rigenta la domanda di annullamento della transazione del 24 maggio del 78 invece dichiara valida questa transazione impone la restituzione del demanio però siccome il demanio ancora non è del delegato giusto nomina due periti perché sulla scorta della relazione del conte rosso e lecce riveda quale c'è il territorio però la sentenza viene appellata sia dal comune sia dall'azza quindi la storia non 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 però il 19 ottobre del 1918 davanti al notario sondatore ovema di palermo si tenta un'altra transazione quali sono i partiti di questa transazione del 1918 il comune finuse all'appello della sentenza riconosce l'altra transazione stipulata con il notario sciazzei del 1864 gli eredi del principe del mutera attaccettazione di qualsiasi diritto spettante al comune sul demano costituito con la transazione del 1478 conferma il 500 ettari che ci ha riadato allo comune con la notario sciazzei e da al comune al 7000 ettari di terreno 728 riprende dal feudo cargeria 272 ettari dal castello quindi con questa transazione di lomeo il comune o c'ha da avere 500 ettari castello che è assoluto eccetera c'ha anche ste mille la transazione lomeo non ottiene l'approvazione se si ritorna l'altra transazione questa volta davanti il commissario liquidatore degli usicidi c'è un ripartitore usicidi da dopo 5 giugno 21 c'erano un altro 50 ettari del terreno di San Nicola da parte per un remaster alle principe e manca l'approvazione praticamente si arriva al 1923 7 ottobre con la quale data si firma la transazione definitiva però nel 1923 stabiliscono i criteri di questa transazione che praticamente sono questi che il territorio circoscritto ceduto in cui si andavava all'università doveva ritenersi demanio comunale così come era stato detto sul tribunale per l'appellato nel 1908 mentre il rimanente territorio restava in un dettaglio evidentemente causa il tribunale tre feriti sono incaricati di verificare questo denario e si stabilisce però che quale che sia questo denario allo comune meno di quanto aveva ricevuto con l'adorazione del tilomeo non ci doveva andare per chiudere la questione è che praticamente a seguito di questo accordo viene il 28 luglio 28 firmata la congiudazione definitiva dove l'ucomune si piglia forse queste cose che hanno detto in altri cento ettari le facunze c'è loro però il sindaco dice ferma questa cosa nella congiudazione che il potestato in putera dichiara di un lancio ad era pretente dagli eredi di casa putera ad agitazione del denaro debilitato nel 1478 e della rapia o pubblicazione e perciò consente il vuole che la rimanente terra e detto del denaro posseduto dagli eredi in putera rimangono di loro esclusiva proprietà e libera proprietà nel caso in cui il comune rimette i casi da terza terra insurpata dagli eredi da persone diverse dagli eredi braccia forti il comune non si interessa non si interessa non si interessa cosa vuole fare questa è la transazione quella che chiude la questione del delano dove praticamente è questo vecchio dentro quindi tutte le terre torna a putera che si interessa si interessa circa 4.000 la salle un po' fuori dal gioco non abbiamo ma non lo avevamo sempre 665 perché tutto il resto era stato tutto usurpato se volete ci fermiamo qua se ci fermiamo qua per quanto riguarda gli osicivi c minore io per inciso sugli osicivi ci compriamo tutto cioè praticamente che succede che attorno al 1924 il commissario di attorno dei osicivi ci nomina un certo candela che per vedere le cose del comune di putera in materia dei osicivi ci va a capire che un comune ha saputo che cosa ha il diritto dei osicivi allora viene nominato un certo geometro opportuno per misurare eccetera qua il geometro opportuno non è che si rende conto che praticamente la casa di carta solo di osicivi ci propone di dare cennità il territorio che le parole non ci tocca niente perché è venuta mai ringraziamo il modaio e la funzione perché è stato veramente grande nella sua presentazione cosa è completata la funzione tanta chiarezza tanta chiarezza e si deve approfondire tanto c'è una una panoramica una panoramica una panoramica e quando andiamo a solo devo prendermi la panoramica e pochi davanti e già la c'è una guarda in guaccia 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 puntata e noi comunque vogliamo ringraziare e certamente non possiamo ringraziare Grazie.